Una mancata precedenza, questa la prima ipotesi dell'incidente mortale avvenuto sabato sera all'imbrunire sulla ex statale 524 Lanciano Fossacesia. A perdere la vita è stato Nicola Di Genni, 27 anni, di Paglieta, che si recava nel capologo frentano a bordo della sua nuova Ducati Rossa. All'altezza dell'innesto con via Iconicella una Ford C-Max condotta da una donna di Lanciano gli avrebbe tagliato la strada invadendo la corsia opposta. Nicola ha frenato ma non è bastato ad evitare l'impatto, fatale. Che ci fa qui questa macchina? ha gridato il padre del giovane inginocchiandosi davanti al corpo senza vita del primo genito. L'uomo è giunto alle 21 sul luogo della tragedia assieme al figlio minore sconvolto. Ho fatto tanti sacrifici per portarlo a 27 anni, ha detto ancora il padre. Come farò adesso mio Dio? Scene strazianti di dolore davanti ad una piccola folla attonita di curiosi. I soccorritori hanno tentato in vano di rianimarlo ma il giovane ispirato poco dopo, sotto shock la donna, alla guida dell'auto. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale che ha il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche la municipale che per tre ore ha deviato il traffico nelle strade secondarie. Gli amici ricordano Nicola su Facebook, qui la musica si spegne ma tu continua a ballare tra le stelle, gli scrivono, perché le sue passioni erano la danza e quella moto comprata poche settimane prima che un sabato sera ha terminato la sua corsa sull'asfalto di una strada sotto accusa. È troppo buia, è troppo pericolosa, soprattutto quell'innesto in curva, dice chi la percorre quotidianamente. Il giorno prima un altro incidente a poche centinaia di metri aveva visto scontrarsi frontalmente due auto ad avere la peggio un 23enne residente a Paglieta che viaggiava a bordo di una Y, ricoverato con tre settimane di prognosi a Pescara, salve anche se ferite le tre donne di Lanciano che occupavano la Opel Meriva.